Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere l'add-on per Elementor ACF Frontend. Nei video precedenti, che trovo in parte suggeriti qua sopra e altri all'interno del mio canale, abbiamo un po' imparato a conoscere questo Elementor, questo plugin rivoluzionario per WordPress, per appunto un pochettino andare a rivoluzionare quello che è WordPress stesso grazie all'utilizzo di Elementor. Abbiamo visitato infatti il sito di Elementor, abbiamo visto quale sono le future di Elementor, abbiamo visto come funziona il sistema di supporto, la differenza tra Elementor Free e Elementor versione Pro e negli ultimi video ci siamo soffermati un po' su alcuni add-on. L'add-on di oggi è un po' più particolare, un po' più di nicchia rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad oggi che sono per lo più composti da widget, blocchi e temi. Se non sai di cosa sto parlando ti consiglio appunto di andare all'interno del mio canale e guardare un po' tutti i video iniziali che riguardano Elementor per capirne un po' di più. Invece l'add-on di oggi si occupa di lavorare in sincronia con il plugin Advanced Custom Field e dare la possibilità agli utenti di usare il sito non da back-end ma da front-end. Direi però di non perdere altro tempo e andare a vedere questo add-on. direttamente dal sito di Elementor accediamo alla pagina alla voce di menu community add-on e troviamo ACF front-end. Entriamo subito nel link e come anticipato già prima abbiamo una versione gratuita per questo add-on che intanto ci fa un po' capire come funziona, poi andremo a vedere le future tra poco. Abbiamo quindi la possibilità di appunto utilizzare questo add-on che ci consente di mostrare le form create con Advanced Custom Field, infatti questo add-on ha la necessità che sia installato e attivato il plugin Advanced Custom Field, magari poi vedremo questo plugin in altri video. Non approfondiamo questo in questo video e grazie a questa sinergia tra Elementor, questo add-on ACF front-end e Advanced Custom Field, il plugin, abbiamo la possibilità di fondamentalmente creare a specchio, tanto per farla in sintesi, a specchio il nostro sito che vediamo nel back-end, cioè il nostro back-end di WordPress creato dal lato front-end. Andremo a vedere infatti tra poco la differenza poi tra la versione free e la versione premium. Stiamo parlando di un plugin che al momento ha più di 6.000 installazioni attive, è un plugin che ha già 3 major update e quindi sembra che sia in netta crescita e in netto sviluppo e pare anche che sia gradito dagli utenti sulla base di quelle che sono le recensioni che possiamo vedere. Andiamo a vedere nel dettaglio un po' il sito per capire meglio. Quello che possiamo fare, prima facciamo un attimo un passaggio breve sugli screenshot, qua abbiamo qualche screenshot di utilizzo dove possiamo per esempio scegliere il ruolo e le permission per quanto riguarda la visualizzazione di alcune pagine o alcune parti del sito. Qua abbiamo una gif dove vediamo come si possa modificare appunto un articolo da front-end. Qua abbiamo la possibilità di vedere come funziona un ad post e qua come funzionano certi tipi di campi. Questi sono solo alcuni screenshot ad esempio. Arriviamo al sito di presentazione quindi ACF front-end. Andiamo subito su quelle che sono le future della versione free. Abbiamo naturalmente una future elencata nel fatto che non serve codice per modificare, per ottenere i risultati che vogliamo. Grazie a questi plugin infatti riusciamo ad ottenere appunto questi risultati di cui stiamo parlando senza scrivere alcuna riga di codici. Possiamo creare con questa addon appunto il modifica articolo, possiamo creare l'aggiungi articolo proprio come se fosse il back-end di WordPress ma lato front-end. Possiamo dare la possibilità di modificare il profilo degli utenti, creare una forma di registrazione, nascondere l'area di amministrazione, quindi soltanto alcuni utenti potranno accedervi. Configurare le permission soltanto quindi per stabilire quali utenti e quali no possono accedere. Abbiamo dei pop-up, dei modali che possono essere usati per cliccare appunto avere i modali come abbiamo visto nella GIF precedente, abbiamo il delete post e possiamo dare una stilizzazione per quanto riguarda CSS ad ogni singolo campo. Le future della Pro invece, possiamo aggiungere sempre lato front-end stiamo parlando, la modifica delle opzioni globali, quindi di tutte le opzioni, limitare il numero di submit, quindi possiamo limitare per un numero di volte per cui gli utenti possono inserire magari articoli o appunto proprio andare a salvare in modo che non vada ad intasare il nostro sito. Possiamo inviare delle email, possiamo dare degli stili grafici alle tab, quindi possiamo appunto dare una stilizzazione alle form, ai modali e anche ai bottoni. Possiamo creare delle form multi-step, ci possiamo andare a integrare con quello che è WooCommerce, possiamo utilizzare Google Recaptcha per evitare lo spam, quindi possiamo integrarci con Stripe e PayPal come gateway di pagamento e possiamo anche usare l'Ajax Submission. Possiamo dare la possibilità di utilizzare, dare in mano l'Ajax Submission, cioè gli utenti quando cliccheranno, quando salveranno le loro form non vedranno il fastidioso refresh della pagina, ma bensì verrà direttamente effettuata il submit senza ricaricare la pagina. È un interessantissimo add-on, vediamo di che prezzi stiamo parlando per la versione Pro, in modo che abbiamo visto tutto, intanto le versioni si dividono sul numero di licenze, fondamentalmente abbiamo una versione in abbonamento annuale a 39,99$ per un sito, a 79,99$ invece licenza per 3 siti e 129,99$ per 100 siti, quindi fondamentalmente la versione illimitata. Allo stesso tempo abbiamo compresi appunto naturalmente nell'abbonamento abbiamo il supporto e gli aggiornamenti, possiamo scegliere come per altri add-on che abbiamo già visto all'interno del mio canale, l'abbonamento, cioè l'abbonamento, il pagamento lifetime, cioè non vogliamo pagare tutti gli anni ricorsivamente l'abbonamento, ma decidiamo di acquistare il plugin per sempre, abbiamo i seguenti prezzi, 149,99$ per il singolo sito, 299,99$ per 3 licenze e 449,99$ per 100 licenze, quindi l'ha limitato. Abbiamo gli aggiornamenti, avremo in questo modo gli aggiornamenti e il supporto anche qua lifetime e non più all'abbonamento annuale. Direi che abbiamo visto un interessante add-on per Elementor, un pochettino se vogliamo diverso dai precedenti, nel senso che come già detto i precedenti sono più focalizzati sull'aggiunta di widget e di funzionalità, qui andiamo a lavorare proprio su una nicchia, quindi andiamo a lavorare proprio sulla nicchia di Advanced Custom Field. Direi che per quanto riguarda il cos'interessantissimo add-on per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamelo scritto qua sotto in modo tale che posso darti una mano per quanto possibile. O se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo di Elementor, il mondo WordPress, e-commerce, dei miei plugin e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che cercavi, lasciami anche questo scritto qua sotto così che magari io posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao! Ciao!